La nuova tecnologia digitale e l'innovazione sbarcano anche in edilizia. E' arrivato anche a Pescara, presso la Formedil, il simulatore di veicoli di cantiere Vortex EGMAX, un macchinario che riproduce in maniera fedele la plancia di comando di un mezzo di cantiere mediante gli schemi in dotazione consente di riprodurre degli scenari operativi di lavoro, uno strumento in più per l'addestramento e lo sviluppo professionale delle maestranze edili. C'è un'oggettiva ripresa del mercato e questo fa sì che ci sia bisogno ancora di maggior formazione, di maggior preparazione professionale e la necessità anche di avvicinare più giovani a questo settore, perché opportunità di lavoro ce ne sono, incominciano ad essercene tante e diciamo che le nuove tecnologie sicuramente possono essere uno strumento per avvicinare di più i giovani a questo mestiere, che è profondamente cambiato negli anni, come vedete oggi c'è molta più tecnologia, c'è bisogno di molte più competenze tecniche specialistiche e noi siamo qui proprio per offrire questo tipo di servizi. I praticanti possono imparare a utilizzare l'attrezzatura ed esercitarsi con scenari impegnativi del mondo reale, senza rischi per l'apparecchiatura o se stessi. Proprio con un simulatore riusciamo a portare delle nuove maestranze dentro i cantieri con una formazione in sicurezza, totalmente in sicurezza, perché una volta che il ragazzo ha preso il patentino col simulatore poi salirà sui mezzi veri. Quello delle edilizie è un mondo che sempre di più strizza l'occhio ai temi legati alla sostenibilità, anche per cercare di ridurre l'impatto del riscaldamento globale. L'industria delle costruzioni rappresenta più del 35% del consumo finale di energia nel mondo e all'incirca il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia. Grazie a questo simulatore sarà possibile insegnare agli allievi come lavorare a impatto zero. E per quanto riguarda la transizione ecologica, addirittura con questi simulatori, riusciamo ad insegnare agli allievi quanto è importante lavorare in una certa maniera anche per risparmiare energia e quindi inquinamento.